Ragazzi, volete diventare ricchi su Fortnite? Braga su Salve il Mondo? Volete salire di livello su Salve il Mondo? Non c'è un problema, c'è Alley Game in descrizione. Su Alley Game potete trovare account per Fortnite, skin, armi, di tutto. Potete perfino acquistare le missioni. Dei ranghi alti di Salve il Mondo, di potenza massima, vi aiuteranno a svolgere le vostre missioni. Avete più difficoltà, potrete acquistare il pacchio X-Mother per incontrarvi. Ad esempio, crediti per FIFA, sempre di giocare a FIFA, Barocat League. E se pensate che la vostra base sia brutta, non vi preoccupate. C'è Alley Game, dove potete costruire delle pere proprie o predarti nella vostra base, quindi... Off-King 92, una persona molto fastidiosa, ma anche molto scarsa. È entrato in lobby con l'intento di tropparmi, ma fallendo miseramente. Che, tuo fratello, me lo saluti, mi saluti tuo fratello? Eh, se tu prendi ogni due secondi, come scambiamo? Perché tu mi spieghi? Mi sto muovendo! Eh, fra, voi che non so te... Senti, senti, il nonologico, lo senti. Fra, mi vuoi salutararti tuo fratello? Vai, fra. Vai, io che dici, ciao, frate, ti saluti ex-mater, ciao, frate, ciao, frate, ciao, frate, ciao, frate, ti saluti ex-mater. Vai, ti saluti ex-mater, frate, ma... Troppo... Eh, avvicinati, fra. Eh, vieni pure su. Uuuuuh! Fra, ma la termi sono rimasta in là, fratello, sono consapevole che la termi sono rimasta in là. No, no! Mamma mia quanto sei scarsso, mamma mia quanto sei scarsso, mamma mia quanto sei scarsso, si dimenticano le tue mani. Che vergogno che è stato fatto. Fra, che cazzo. Oh, io ho riturfato, mamma mia, che è scarsso, che pergogno. No, 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 frate, ho torfatato. Librami, librami! Mamma mia... Non mi permessi. Stavolta mi devi permessi, fratello. Stavolta mi devi permessi, fratello. Stavolta... Stavolta mi devi permessi. No, no, ora andiamo a scambiare in due, basta. No, 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 andiamo a scambiare in due. Andiamo a scambiare in due! A due? Vabbè, mi troppo in due. Va bene. Velo! Mi scafoste? Poi mi scafoste che mi hai preso. Se ti fermi, fra... Vai, fra. Ok. Fra... Fra, ma lo sai che l'ho preso? Ed hai preso uno, fra. Mi hai preso uno. Ora, fra, però... Troppo, troppo, fra. Troppo? Stai sento aver messo troppo. Va bene, fra. Allora, che ti devo dare? Scusa. Boh... Che armi hai? No, ti do... Ti do... Aspetta. Va bene. Ti do, ti do... Cosa? 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 Oh, va bene, va bene, va bene, va bene. Per i paporsi e lo scopoci, va. Io troppo, tu apri. Eh no, eh, così funziona, non lo scopo. Vai, apri. Apri. Apriamo, apriamo. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Fp Anuar, la persona da zero qualità, solo difetti, urla sempre, è pazzo, in Italia è la persona che ha totalizzato più figure di merda Scambio, scambio, armi, anch'io, il mio inventario è per il tuo Vuoi fare uno scambio di inventari? Certo, fra Vabbè, però fra, cioè, a me sono per armi moddati qua dentro, per dire Eh, anch'io, anch'io, fra, anch'io Allora, vabbiamo, ti giuro, fra sei i miei truffi, minchia Oh, sei sicuro che i miei truffi Tra, ci sembra, fra sei le mie truffi Tra, tu mi troppo, fra sei le mie truffi Ti spacco, ti spacco, ti aggro la causa, ti ballo, ti ballo Ma, vabbiamo, allora Ma se ne sono andato? Salto, come un cane, come un canguro Salta, 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 prendo tutto subito Mamma, mamma mia ma sono modate le montemannaie fra certo amico fritz va fermi i truffi mamma mamma mia oh fra sto stavo andando a fare la controlla no 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 se ne va via truffatore truffatore sei un truffatore oh stai calmo lazza ma tutto bene troppiamo troppiamo poi si va a continuare a troppare si si fa io sto troppando allora poi droppiamo cazzo non ho finito cazzo ma sono pochi anni sono materiali quindi ĐT non fare al b CAN ti pare il bimbo di m dan frente ma ci sono ci sono ma in ehmica a vita a vita a vita adopto aprile no pied Bernie riceve quando che c'è fra? no! è un ventano! no! bastardo! colmuto di merda! strunzo di merda! fra? dammi permisi! vai, non c'è la verità dammi permisi! bucchino... bucchino amato! dammi permisi! oh che caccia! non lo vuoi incazzare! bastardo! vado con la mia! strunzo! dammi permisi! dammi permisi! chaccia! 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 mamma mia! chaccia! dammi permisi! Predator Ragon Predator Ragon è stato truffato da me svariate volte un suo pregio non si arrende facilmente anzi, non si arrende mai ah no, questa base è una... è ridicola sta base si, si, si mi ricordo qua c'erano i melancia... i melancia squali! ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, mi sto incazzando che stiamo scambiando, una volta veloce, devo andare a cagare, ti prego io voglio mi lanciarlo, vabbè che cazzo so con la roba? ah... No, sai bene che io ho aperto il muro, mi sto avvicinando no, no Fra non vale così no, basta no, ora ora troppo finito vieni a piedi 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 cosa vuoi? dai Fra no basta Fra no no, ti ritroppo le tiri troppo, ti ritroppo le armiste al 12 le armi c'è messo ma tu che mi vuoi dare tutto l'inventario? io ti sto trovando tutto l'inventario quindi voglio altre tante armi eh ma ti le hai permessi? si si si, l'importante è che stai lontano, se no te li tolgo si si, sono lontano l'armesso allora innanzitutto la c'è lontana perchè io la vedo che sta là ok ok no li inventerò pieni no vabbè ma indietro no ho finito, dai vabbè dai li inventerò pieni vabbè no il splander non vale ma come non vale? ma tu si scordi no io li inventerò pieni a me non devo dire che le prendo a sto punto no perchè le prendo a ripeto vabbè è appunto troppa e non mi rompere il cazzo e vabbè dai basta troppa guarda si di va di più fra più armi voglio più armi più armi? si 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 e ti cura si 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 e se non le droppo io cosa fa a lei? ti caccio ma non va 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 troppa troppa di più? va di più fra tutte le armi che tengo guarda qua ma fra anche tu devi droppare oh oh droppato ma non vedi che stanno qua le armi no stai droppando ma io ti tengo già le armi droppate non l'ho ripreso non vedi non vedi la mappa ignorante di merda vediamo la mappa ah si la vero ecco ora troppa sto troppando eh e io pure le spade tutto 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 liberati anche le spade sei sicuro? si 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 è stato uno scambio epico ah epico mhm quanto tommo eh cosa non so se devi prendere le armi come cazzo faccio ma metterle lettera liberi no? ah è vero una volta che te lo allora one utility latero eeeh recondi e fra i permessi no eeeh no non te voglio brava ma le tue armi stanno sotto cazzo stai facendo io metterle sopra ma sei serio? ma stai bene? va bene va bene ok ah io ho contattato le armi l'ho messa sotto e poi basche numero un po' cazzo ok? mamma mamma mi cambia i mutande mamma si 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 come mamma cambia i mutande dai vai fra apri no no fra ma forse no fra le ha oh oh si uccide fra 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 no io non scambio più con le ha fra fra le ha l'articolo un po' non mi trovo non mi sento male mamma mia come si sceglie mamma mia e ti truffo sempre mamma mia e tu continua a venire continua a venire nella mia lò continua a venire nella mia lò aspetta aspetta io sei minuto aspetta il cliente ma ma non mi troppo elettro se vittorio 7 la persona che mi ha dato più filo da torcere tanto è che una delle poche persone è riuscito a truffarmi però con lui poi ho fatto il botto mi sono vendicato alla grande uè fallita dai apri ma sei la rovina di youtube italia dai apri scambiamo ma non lo so così x mother non mi dà fallito vabbè si non mi dà fallito ti posso dare ragione mi copia pure la skin mamma mia è un po' di rostruttore sapone si io sono questa cosa da due anni su questo schifo e da 5 eh si ma non mi dà allora vabbè comunque sei 07 vedo e chi non sei 1992 sta quanti anni io non sono bravo in matematica per 228 eh manco di manco di allora vabbè a posto allora comunque fra scambi scambi vuoi scambiare cioè non lo so se vuoi scambiare scambi se non vuoi scambiare vado tu vuoi scambiare ok allora che sei po' che brutta base madonna ti rovino ti rovino eh allora dai dovete mandare vai cazzo tu sei solamente la mia base è una merda vieni qua scambiare ma che è questo è una base per scambiare entra entra aspetta aspetta allora io insomma posso scambiare un'arma a botta che fra non mi fida dei falliti cioè capiii non ti fido di falliti allora lo so che sono molto bravo lo so che sono molto bravo a truffare però non ti truffo a truffare che mi scambi è che quale questa arma che vuoi scambiare la capocchia ti deve fare così ma va a fangum ma quanti funzionare gli attacchi degli squali non ti fa se tutto c'è davvero andato qua adesso i permessi non te li do però devi troppare a me a me però prima troppo le armi che io ho fatto te troppi tutto poi te li do poi te le permessi così che sei più fidevole ok questo qui sono le armi che io a lei ho truffato e basta no 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 per incazzare pure no a porca paletta pure l'ha raccoltato ma è un'attivata post troppo allora lei forse non è pronta per questo tipo mi faccia parlare oh zitto troppe notturne ok 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 però ok però allora 130 130 9 allora porca paletta porca paletta pepino ha visto anni nocturni poi sto tanto a 30 deve perché non hai fatto 6 perché a lei non la conosco bello detto che sto dark stia zitto forza 25 diritto a posto il cassino tutti in attima testa ferma adesso fermo perso per no meraviglioso mi piace la tecno ballo sulla tecno il tuo corpo ora ora fermo un attimo tu ce li hai permessi no ok adesso no 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 ma cosa vai a prendermi ha chiuso il muro bro no un bucciano l'obiettivo del cazzo mamma mia no no come si scema no fra fra o da fra che c'è che c'è fra mamma mia fra fra chiamelo tutto dai fra dai fa mamma mia ci sarà una mia vendetta te lo giuro fra ci sarà una mia vendetta guarda mamma mia no già fra o ma tacci l'obrò di fra ora è ottenutodf questo li rompi bimbo di ibe dai fra aprimo ci ha distrutto ci ha distrutto e di tutto sul piano aspetti aspetti stia zitti non è detta l'ultima si si rida 64 oltre a essere un gran razzista è anche un gran nabbo veramente non mi stalker perchè sennò mi dice mia madre che mi derubano vengono a casa e mi derubano ma che farà mai soddinarlo mi faccia tu rubi le biciclette ma io rubi i motorini comunque sei un napoletano di merda si eh lo so e fra tutti i napoletani sono coglioni si si dal primo all'ultimo esatto concordo con te esatto troppo 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 no no finis qui va bene ti do troppo potremmeno 134 giusto oddio 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 eh soltantina quanti sono no no dimmi quanti sono dai veloci veloci non da cinquantina penso sessanta non è che me ne metta a contà vabbè 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 dammi i permessi sì sì però eh ti ha visto avvicinati ti caccio che cazzo dai no scusa 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 vabbè dai mi permessi vabbè vabbè non c'è bisogno che riesce il messaggino sopra eh ah ti ha visto provo ad avvicinarti ti caccio no scusa vabbè io ho paura di te perché vedo la lama spettrale prima la togli e poi si vede cosa si deve fare taglieranno aspetta eh non l'ho visto però vabbè comunque in tutto ciò sono napoletano di merda a e vai dai dai guarda guarda quanto sono ricco che bello no 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 No, non posso più prendere No, sono sottoterra No, li vedo sottoterra No, come? Ma Fras, sono sottoterra, no, come? No, dammi la roba, apri qua No, dammi la roba No, dammi la roba No, dammi la roba Fras, sbrigati, dammi la roba No, 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 sbrigati Dammi la roba, no, no, dammi la roba Fram, hai truffato, no, sbrigati Non ti ho truffato, aspetta, aspetta, aspetta Fermo qua, fermo qua un attimo No, 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 aspetta, aspetta No, 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 ti ho truffato ancora, aspetta Aspetta un attimo Vuoi aspettare due secondi? No, 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 io non aspetto niente No, no, due secondi, due secondi Due, due secondi No, 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 ti ho truffato Fras, devi stare tranquillo, non ti ho truffato Ok, ok Ti sarò vedere una cosa Dammi la roba, dai No, adesso, adesso ti ho truffato Adesso ti ho truffato No, 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 me lo devi ridare Cioè, no, no, me lo abbiamo capito Perché, perché, sei razzista di merda No, 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 no Sei razzista di merda No, 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 no Chere, no Sint, ridà Chiami spagassato le palle, ok? No, 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 no Grazie a tutti